Cristina Cazzola, direttrice artistica di Segni New Generation Festival, si avvicina il festival dedicato ai ragazzi, teatro e non solo, il coronavirus ha cambiato praticamente il proseguimento dei lavori, quindi noi vogliamo sapere da te come è cambiato, che cosa troveremo e come vi state organizzando, cioè se avete in programma una serie di appuntamenti come solitamente, tradizionalmente avviene, ma se qualche cosa è cambiato nel frattempo. Allora, in verità è cambiato tutto e purtroppo non abbiamo la sera di cristallo, quindi non sappiamo cosa succederà. Segni è un festival che è dedicato ai bambini e ai ragazzi, quindi abbiamo una fascia d'età molto vasta, che prima era di facile gestione perché comunque sapevamo quali erano le esigenze specifiche di ogni fascia d'età, adesso queste fasce d'età anche in relazione a quello che sarà il rientro a scuola, il non rientro a scuola, ovviamente tante cose cambiano. La scuola è un altro punto di domanda grande perché non sappiamo ancora niente, nessuno di noi sa, stanno riflettendo su quello che sarà il meglio, quindi su questo noi abbiamo un grande punto di domanda. Il teatro e le arti dello spettacolo dal vivo sono quelle che a quanto ne sappiamo oggi torneranno ad essere aperte, quindi potranno fare la loro attività il più tardi di tutti. E che dire, su questo noi ci rimettiamo a quelli che sono le indicazioni in maniera rispettosa, ovviamente non possiamo pensare di non fare la quindicesima edizione di Segni. Non possiamo pensare di non farla, non perché sono quindici anni ed è un bel compleanno, ma perché da quello che abbiamo anche scoperto in questo tempo del lockdown, chi mi conosce sa che amo essere ottimista, credo che abbiamo scoperto un po' di più che la cultura ci serve, perché credo che il nostro settore, quello del teatro, sia quello che ha regalato in maniera più generosa di tutti il proprio lavoro gratuitamente, perché abbiamo assistito a messe in rete di contenuti di tutti i tipi, libri, musei e a volte in maniera anche un po' così provocatoria, mi viene da dire quale categoria ha messo a disposizione il proprio lavoro gratuitamente, nel senso che andando a fare la spesa il salumaio mi ha chiesto di pagare giustamente e non voglio, ovviamente io voglio farlo. Però ecco, diciamo che abbiamo fatto questo grande gesto di solidarietà collettiva in cui abbiamo usato il nostro tempo professionale, la nostra competenza, la nostra arte per sopravvivere a questa situazione con quelle che erano le limitazioni possibili, e quindi con dei contenuti che rispettassero il lockdown, quindi nell'unico spazio che c'era concesso l'online. Questo ha fatto sì che questo tempo comunque è stato un tempo che ci ha messo alla prova e ci ha fatto venire in mente altre modalità che ci possono essere per fruire gli eventi culturali e quindi diciamo che è dal più o meno 10 di marzo che ci stiamo interrogando, ci stiamo interrogando fra di noi, consultando anche il mondo della scuola, ci stiamo interrogando con i colleghi, ci stiamo interrogando con il nostro pubblico, al quale diciamo siamo rimasti agganciati, a cui abbiamo provato a dare dei contenuti, anche noi con il coloravirus, quindi abbiamo trasformato il colore all'animale in un contenuto digitale che si potesse fruire con dei brevi video che fossero da spunto, rinforzando quella che è l'alleanza con i genitori, che sono per noi diciamo il nostro alleato veramente principale, nel senso che fino ai 14-15 anni sono loro che scegliono di portare i bambini a teatro. Un anno, quando fu l'anno del salmone, l'avevamo dedicato proprio ai genitori perché erano per noi questi genitori che risalgono la corrente nel senso che dicevamo ai tempi, mettono il bambino nel passeggino, lo portano anche col freddo a vedere lo spettacolo. Ecco, diciamo che questa alleanza che abbiamo rinforzato ci ha dato anche speranza che ci possono essere forme per fare il festival, quindi il festival si farà nelle date che sono quelle che dovevano essere e che quindi saranno dal 31 ottobre all'8 di novembre. Quella che è la grande domanda e che ci stiamo facendo in questo caso interrogandoci con i nostri colleghi anche in tutto il mondo perché abbiamo creato un appuntamento settimanale in cui ci proprio interroghiamo sulle varie problematiche, il digitale, la distanza dentro i teatri, la capienza ridotta, il tema delle risorse perché ovviamente anche il tema dei finanziamenti diventa un tema molto importante. Sappiamo bene che gli enti locali potrebbero rischiare di dover tagliare per far fronte ad altre emergenze i contributi alla cultura, sappiamo bene che gli enti benefici hanno destinato moltissime risorse giustamente all'emergenza sanitaria, le risorse sono quelle signori, quindi segni dovrà confrontarsi anche con dei limiti oggettivi di risorse. Siamo sopravvissuti alla crisi del 2008 e quindi confidiamo di essere capaci di avere resilienza e capacità di inventarci cose, in questo veramente ci serve una mano, quindi quello che faremo da ora in avanti è aprire degli incontri di dialogo anche con il pubblico, con gli insegnanti, stiamo ragionando su come renderli dei momenti pubblici e appunto ovviamente sul digitale, che è lo spazio che in questo momento possiamo frequentare, per arrivare al festival con una formula che al momento sta prendendo forma, ha tante possibilità che sono aventi magari fuori, appunto le cose che ci dicono che possiamo fare, ci stiamo inventando come adattarlo a quelle che sono le possibilità, che però cambiano di settimana in settimana, io ce ne ho già scritto 12 festival diversi, quindi diciamo che siccome non vogliamo fare il lavoro dei matti e scriverne 25 diversi, al momento ascoltiamo, raccogliamo informazioni e lavoriamo in questo scenario che è uno scenario, anche qui ti trovo positivo, l'idea è che siamo dentro questa pancia della balena, la balena è il nostro animale simbolo, quindi quello che abbiamo, così che ci raccontiamo è che noi viviamo on life, quindi nella vita, la vita è fatta e la vita è in questo momento la nostra grande balena dove stiamo dentro e la vita è fatta di tanti momenti diversi, quelli online, in questo momento molti e quelli on life, che sono quelli che poco alla volta ci stiamo recuperando, ma poi la cosa bella è anche che la nostra vita è fatta anche di momenti che sono nello spazio dell'immaginazione, per esempio quando noi leggiamo un libro dove siamo? Siamo online o siamo offline? Siamo nell'immaginazione, quindi un altro spazio ancora, allora se la pensi così, il festival di segni potrebbe, 2020, immaginiamo che sia un viaggio all'interno della pancia della balena, on life, misto di online, di offline e che sia soprattutto, questa è la parola su cui molto ci confrontiamo, che non sia magari un festival nel senso che il festival è quella cosa che conosciamo e che abbiamo sempre conosciuto quello che sarà forse segni 2020 è una esperienza che partirà da contenuti, che darà contenuti, che creerà relazione, che creerà esperienza e in cui una cosa sappiamo molto bene ed è questa, che il nostro pubblico è quello che ha più bisogno in assoluto di avere una mano, un aiuto, uno strumento, perché questo tempo che ha passato i nostri bambini, i nostri bambini e i ragazzi che hanno passato, diciamo chiusi a casa, sicuramente è stato un tempo molto complicato che ha lasciato in loro dei segni importanti, che ha smosso cose e che quindi crediamo sia molto importante raccogliere, restituire, spiegare, incorniciare e insieme accompagnare questo momento. Quindi ecco, questo è un po' lo sguardo che stiamo mettendo, ci sono spettacoli che avevamo immaginato di programmare che, ma viene a dire, se immaginiamo di farli, non lo so, in spazi grandi come l'Ariston al quale, come facciamo sempre, ridurremmo, sempre rispetto delle leggi che saranno, la capienza ma questo non è niente di nuovo per segni, questo è il minore dei problemi per noi, nel senso che segni da sempre ha una cura nel numero di spettatori, che sono sempre state la nostra forza e il nostro limite perché purtroppo se fai uno spettacolo per un milione di spettatori e vendi dei biglietti non hai neanche bisogno di chiedere soldi a nessuno, gli sponsor non servono perché basta il costo del biglietto ma invece nel nostro caso noi l'Ariston quando l'abbiamo usato, l'abbiamo sempre usato in maniera molto attenta a quella che è l'esperienza che il bambino può fare. Una cosa è un'esperienza di essere uno fra 400 spettatori in una sala, una cosa è essere con la mamma e il papà seduti accanto, sia solo in 100-150 che è la capienza che di solito teniamo, salvo alcuni progetti che lo permettono, all'Ariston e quindi questa sarà la parola chiave. Ovviamente su certe sale è più difficile per esempio un cinema del carbone che ha bisogno tra l'altro di andare avanti, di sopravvivere che quindi vogliamo che sia uno spazio che si riempia come d'abitudine di contenuti di segni a 99 posti, fare il 30% vuol dire che ci sono 6 famiglie, se è tanto, che va benissimo ma ovviamente dal lato dei costi e della sostenibilità questo pone dei problemi. Sono ottimista anche qui, secondo me è vero che il lockdown ha creato dei problemi economici ma è vero anche che ci sono aziende che comunque hanno continuato a lavorare, hanno fatto servizi in più e quindi ci aspettiamo, ecco questo lo dico un po' così, ci aspettiamo che chi ha effettivamente beneficiato in qualche modo di questa situazione perché ha reso dei servizi e che comunque hanno generato delle economie possa essere in grado di comprendere che il rimettere in circolo queste risorse con magari una sponsorizzazione, un finanziamento che permette alle famiglie di venire a teatro e magari non pagare un biglietto alto, nel senso che se noi dovessimo riprodurre la sostenibilità di segni caricando sugli spettatori il costo del biglietto non sarebbe sostenibile per le famiglie, anche perché è una famiglia fatta almeno di tre persone di solito, due, tre, quattro, cinque, sette, dieci a seconda di fin dove si allarga o come si imporre e allora se un biglietto che prima costava sei euro dobbiamo alzarlo diventa veramente insostenibile e tra l'altro ci interroga anche sulla democraticità di questo evento in tempi in cui è inutile che ce lo nascondiamo, qualche problemino ad arrivare a fine mese magari ce l'avremo, cioè siamo, non entro nel merito. Ecco, il problema che io sento molto forte è perché il nostro settore attualmente non ha alcuna risposta e da quello che si sente forse torneremo a lavorare a gennaio 2021, ma ci rendiamo conto? Quindi la prendiamo sul ridere, siamo ottimisti, ci inventiamo qualsiasi cosa, però ecco abbiamo bisogno di farlo insieme, stiamo cercando di farlo insieme. L'ultima cosa che credo sia importante da dire rispetto al digitale, perché non vorrei essere fraintesa, l'esperienza segni è un'esperienza altra, non è teatro perché il teatro non si fa online, il teatro si fa spostandosi, prendendo il tempo di andare, di raggiungere un posto, di incontrare la gente perché il valore aggiunto dell'esperienza dal vivo è proprio quello che è dato dall'incontro con gli altri, che possa essere positivo o negativo che sia, soprattutto per il nostro pubblico che sta imparando le norme della socialità e lo stare al mondo, è un momento molto importante e imprescindibile. Quindi speriamo che l'esperienza segni sia sempre più vicina a quello che abbiamo conosciuto, che è il format del festival, ma immaginiamo che sia un momento di passaggio dal quale stiamo cercando di capire come imparare delle cose e come alcuni contenuti, alcune trasformazioni magari arricchiranno quella che sarà l'edizione 2021 in cui ci auguriamo tutti che saremo tornati a quello che conosciamo essere l'esperienza del teatro, ma in cui avremo imparato a fare bene anche altre cose e magari avremo, come ci siamo tenuti in contatto in questi mesi con il coloravirus, altri strumenti, perché è questo che dobbiamo cercare di portare a casa e altri comportamenti che siano più sostenibili in generale. Per questo la balena in teoria ci porta e ci ricorda un'attenzione comunque al mondo che ci circonda, alla natura che stiamo osservando con molta attenzione, perché abbiamo avuto un po' di tempo in più per farlo. Va bene, grazie Cristina di questa lunga chiacchierata, molto complessa. La situazione è molto difficile sintetizzarla in poche parole. Certo, certo. Va bene, grazie Cristina. A presto, tienici informati. Seguiteci sui nostri social perché succederanno delle cose, speriamo, anche belle e da fare insieme.